ok allora possiamo possiamo cominciare allora il webinar di oggi è il webinar di oggi è destinato insomma concentrato il focus sarà legato ai fringe benefit perché come come sapete ci sono stati insomma importati novità nel 2022 legate ai fringe benefit quindi ci concentriamo facciamo un prima un'introduzione su quelli che sono i fringe benefit perché magari insomma può essere utile ricordarli magari alcuni non si conoscono così bene ecco poi ci concentriamo su quelle che sono le novità del 2022 legate ai fringe benefit e infine parliamo delle ultime novità uscite relative al mese di novembre per quanto riguarda un pochino la gestione payroll quindi delle buste paga allora partiamo subito ok partiamo subito allora quindi come vi dicevo appunto la scaletta sarà questa che cosa sono i fringe benefit i fringe benefit sono i compensi natura che sono costituiti da appunto beni servizi sono attribuiti dal datore di lavoro in aggiunta alla normale retribuzione corrisposta al lavoratore quindi in aggiunta a quello che è la retribuzione minimale definita da contratto collettivo più eventuali eh super minimi pattuiti ehm pattuiti con ciascun lavoratore quindi sono appunto retribuzione aggiuntiva che la particolarità è che viene data sostanzialmente in beni e servizi l'obiettivo qual è è quella di fidelizzare i lavoratori di incentivare la produttività e di ottenere anche un pochino più di flessibilità salariale ehm la la tassazione dei fringe benefit è particolare adesso dopo l'analizzeremo eh la cosa che bisogna sapere che in linea di massima ehm per la generalità dei fringe benefit se se eh si eccede il valore annuale di duecentocinquantotto euro diventa tutto imponibile a livello previdenziale e fiscale alcuni fringe benefit sono soggetti a una determinazione forfettaria dell'imponibile quindi eh appunto eh l'imponibile da soggettare a tassazione viene determinato appunto in modo forfettario che vediamo adesso quali sono i principali e come vengono come viene definito questo eh imponibile allora eh prima di tutto facciamo una premessa importante eh perché sono domande che mi vengono fatte quotidianamente eh per cui può si può creare cosa confusione eh che cosa eh sono allora togliamo dall'area dei fringe benefit tutti innanzitutto quelli quei quei beni quei beni servizi che vengono dati al lavoratore nell'interesse però del datore di lavoro quindi eh non costituiscono fringe benefit eh i servizi e i beni dati dal datore di lavoro nell'interesse del datore di lavoro stesso quindi parliamo indumenti di lavoro ad esempio aggiornamenti professionali rimborsi per le trasferte piuttosto che visite mediche per la sicurezza sul lavoro assicurazioni professionali quindi questi sono al di fuori dei fringe benefit non sono fringe benefit perché sono spese finalizzate eh sostanzialmente all'attività lavorativa mentre costituiscono fringe benefit i beni e i servizi dati nell'interesse ehm della vita privata del lavoratore quindi ad esempio eh beni o servizi per proprio uso privato eh autovettura ad uso promiscuo quindi l'autovettura vedremo può essere ehm eh assoggettata a una tassazione che prevede l'uso promiscuo quindi per in parte per lavoro in parte per ehm eh per insomma per motivi privati eh il lavoratore il datore di lavoro può cedere degli immobili al eh lavoratore può effettuare dei prestiti a un tasso agevolato e può erogare servizi di mensa o buoni passo e infine può organizzare ehm dei servizi di trasporto collettivo questi sono esempi di fringe benefit perché appunto sono dei servizi dati che possono portare un beneficio alla vita privata del lavoratore ehm facciamo ancora una suddivisione nel senso che si può creare confusione quindi ehm nel nell'ambito macro ambito del welfare aziendale dei beni e servizi offerti alla generalità dei dipendenti si possono inserire ovviamente anche i fringe benefit cioè nei piani di welfare che normalmente vediamo ci sono i duecentocinquantotto euro di buoni spesa c'è la possibilità di ripagare gli interessi dei mutui ad esempio ehm qua parliamo di fringe benefit intesi come beni e servizi che il datore di lavoro può decidere se erogare solo anche ad alcuni dipendenti o addirittura anche solo a un dipendente in tutta l'azienda quindi ad persona ma eh quindi qua ci focalizziamo su quei beni e servizi che possono essere dati a tutti ma possono essere dati tranquillamente anche ad persona ma per cui non è necessaria una regolamentazione a livello aziendale tantomeno un accordo aziendale la tassazione sono soggetti a tassazione se superano i duecentocinquantotto euro e comunque alcuni sono soggetti a tassazione forfettaria e e in ultimo eh ribadiamo che possiamo mh dare qualsiasi bene o servizio eh in questo ambito non se rispettiamo queste regole di di questa specifica tassazione mentre i servizi quelli che classicamente vengono definiti di welfare aziendale puro eh devono essere dati al fine dell'esenzione della deducibilità dati a tutti i dipendenti dalle categorie eh deve esserci un regolamento quanto meno un accordo o quanto meno un regolamento che ne definisca insomma l'erogazione sono a questo punto esenti se vengono rispettate tutte le regole definite da legge e di solito fanno riferimento a specifici ambiti quindi di finalità sociale assistenziale ricreativa educativa occulto quindi eh parliamo attività ricreativa ad esempio la palestra piuttosto che viaggi mh o finalità assistenziale quindi servizi per la babysitter l'asilo nido piuttosto che l'assistenza di persone anziane o disabili ehm quindi queste sono le due macro categorie noi ci focalizziamo sulla prima colonna giusto per mettere un po' di insomma per non far durare anche questo webinar troppo eh i principali fringe benefit quali sono? Allora ehm in ordine guarderemo appunto beni e servizi in genere le autovetture ad uso promiscuo i fabbricati i prestiti le stock option e la mensa aziendale e prestazioni sostitutive della mensa aziendale quindi innanzitutto eh beni e servizi in genere allora il datore di lavoro può dare beni o servizi in genere al lavoratore e come dice come abbiamo detto solitamente eh se cede il valore di duecentocinquantotto euro annuali viene soggettato completamente a tassazione eh di qualsiasi tipo cioè nel senso il datore di lavoro può dare beni o servizi di qualsiasi tipo e ehm il valore di riferimento perché dicevamo parliamo di questi duecentocinquantotto euro ehm il il valore di riferimento del di questi duecentocinquantotto euro deve essere misurato o sui listini eh dei beni o servizi che acquista il lavoratore il datore di lavoro ad esempio per regalare ai dipendenti oppure se un bene che produce direttamente il datore di lavoro i prezzi che ehm applicerebbe ad esempio ad un grossissa quindi per entrare a fare un esempio molto pratico se io sono un'azienda che produce divani posso eh nel caso eh uno ad esempio decidere di regalare a tutti i miei dipendenti fare un regalo che può essere il cesto di Natale con dentro eh il il caviale lo spumante piuttosto che regalarmi anche degli occhiali da sole non appunto qualsiasi bene o servizio nel limite dei duecentocinquantotto euro altrimenti deve devo mettere tutto a imposizione o facendo l'esempio che stavo facendo appunto sono un'azienda di divani decido di regalare un divano a ogni dipendente in questo caso devo prendere il prezzo che farei ad un grossista vedere se sto sotto duecentocinquantotto euro è tutto esente altrimenti diventa ovviamente tutto imponibile nella realtà dei fatti però non succede così nella maggior parte dei casi succede che il datore di lavoro da dei voucher ehm al dei dei buoni spesa dei buoni per l'acquisto in generale che sono convertibili di solito sulle varie piattaforme tramite il quale il datore il lavoratore può comprarsi un po' quello che vuole no nel senso che appunto nelle maggiori piattaforme permettono danno ad oggi danno un codice per ogni dipendente ehm insomma il il taglio di questo voucher è assolutamente a discrezione del datore di lavoro e a questo punto il il lavoratore potrà convertire questi buoni su questa piattaforma e decidere di comprare eh elettrodomestici da le maggiori catene di elettrodomestici piuttosto che vestiario piuttosto che far la spesa al supermercato piuttosto che insomma tutto ciò che che vuole sostanzialmente in questo momento ehm è importante dire che ehm eh dato che si applica il principio di cassa allargato ehm bisogna dare il questi buoni devono essere dati affinché finiscano in un anno fiscale devono essere dati entro il dodici gennaio dell'anno successivo quindi per quanto riguarda il duemilaventidue io ai buoni devo darli entro il dodici gennaio duemilaventitré non devono essere spesi dal lavoratore devono essere erogati fisicamente al lavoratore nel momento in cui molte eh di fatto adesso molti voucher sono digitalizzati di fatto si concretizza nel appunto dare il codice al dipendente che deve convertirlo e quindi associarlo al proprio nome eh entro appunto il dodici del mese successivo vi anticipo che per il duemilaventidue lo vedremo bene dopo sostanzialmente il la soglia dei duecentocinquantotto euro è stata aumentata a tremila euro eh queste soglie eh devono essere rispettate sull'anno fiscale quindi dall'uno gennaio al eh sostanzialmente appunto il secondo principio di cassa allargata fino al dodici dell'anno successivo no? E quindi è importante se si vuole avere l'esenzione se si vuole godere dell'esenzione fino ai tremila euro eh di quest'anno erogare questi voucher entro il dodici gennaio duemilaventitré altrimenti si perde la possibilità di avere questa esenzione. Allora andando avanti appunto eh come vi ho già anticipato di solito il limite duecentocinquantotto euro quest'anno è di tremila euro se lo supero facciamo attenzione che tutta l'importo è soggetto a tassazione quindi eh lo vedremo meglio dopo però se io ho già erogato dei fringe benefit durante l'anno al mio laboratore e supero anche solo di un euro la soglia dei tremila tutto quanto diventerà imponibile. Quindi dovrò andargli a recuperare tutte le imposte che eventualmente dovrà versare. Eh è importante anche sottolineare che io non posso dargli soldi in busta paga eh così ma devono essere beni o servizi. Vedremo anche dopo un'eccezione eh legata a quest'anno è data dal fatto che posso rimborsare le bollette però lo vediamo meglio dopo. Eh abbiamo fatto degli esempi per essere un pochino più concreti. Allora eh ci sono due dipendenti entrambi con una RAL di ventisei mila euro. Eh parliamo in questo caso consideriamo un anno generico non il duemilaventidue perché il duemilaventidue è molto particolare. Nel primo caso il dipendente appunto ventisei mila euro di RAL a duecento euro di buoni spesa. Nel secondo caso sempre ventisei mila euro di RAL gli diamo duecento euro di buoni spesa però ha anche il fringe benefit della macchina aziendale. In questo caso nel primo caso i duecento euro saranno esenti ovviamente. Nel secondo caso avendo un fringe benefit complessivo di duemila e sessanta euro che supera i duecentocinquantotto sarebbe tutto imponibile. Per quest'anno e solo per quest'anno e in entrambi i casi c'è l'esenzione completa. Autovetture ad uso promiscuo. Allora eh nell'autovettura ad uso promiscuo il conteggio è fatto così. Eh si prende l'autovettura, si prendono le tabelle ACI definite annualmente in cui eh sostanzialmente c'è il rimborso chilometrico per ciascun tipo di auto. Eh sono delle tabelle enormi con tantissime righe quindi bisogna andare a trovare esattamente il modello, la marca, eh il il fatto se non è ancora non è ancora in produzione, il tipo di alimentazione quindi se è a benzina, gasolio, ibrida, ok. Quindi si va a cercare quella riga specifica e si trova appunto ehm il rimborso chilometrico. Si moltiplica per eh una percorrenza a una convenzionale di quindicimila chilometri si prende il trenta per cento di questo importo. Questo importo qui è eh considerato l'imponibile che va soggettato a tassazione e contribuzione per l'utilizzo di quell'auto. Quindi io sostanzialmente cosa farò? Quando faccio le buste paga devo mettere questo imponibile qua aggiuntivo nella busta paga del dipendente, il dipendente pagherà in automatico le imposte e i contributi sull' per l'utilizzo di quest'auto che io gli ho dato a ad uso promiscuo per cui lui potrà serenamente utilizzarla sia per venire al lavoro che per andare da clienti ma anche per portare il figlio in palestra. Ehm è bene ricordare che eh a partire da luglio duemilaventi eh il è cambiato eh la modalità di di calcolo appunto del del fringe benefit eh legato all'auto perché perché si è preso in considerazione anche le emissioni di CO2 dei singoli autoveicoli quindi la volontà del legislatore era era quella di far sì che eh le aziende mh virassero verso ehm parchi auto aziendali eh più ehm con con delle emissioni di CO2 più più basse insomma. Quindi come potete vedere qua se le emissioni di CO2 sono molto alte a partire dal duemilaventuno addirittura si può arrivare fino al doppio del valore dell'auto in termini di tassazione mentre se le le emissioni di CO2 sono basse addirittura vado a risparmiare sia come azienda che come dipendente. Quindi anche in questo caso bisogna stare ovviamente attenti. E i due esempi che abbiamo fatto qua li abbiamo fatti relativi appunto all'un all'annualità una annualità ordinaria che non è il duemilaventidue quindi dove il limite di duecentocinquantotto euro è eh appunto il duemilaventidue quindi parliamo sempre del stesso dipendente con un aral di ventisei mila euro con la stessa auto normalmente eh il fringe benefit di in questo caso sono millenovecentocinquantaquattro euro sarebbe totalmente imponibile nel duemilaventidue e è completamente esente quindi nel duemilaventidue sostanzialmente mh dato che questa esenzione è stata definita di fatto il limite è stato alzato a novembre in sede di conguaglio eh si restituiranno eh a coloro che hanno il fringe benefit auto ad esempio dove hanno il fringe benefit di valore inferiore ai tremila euro verranno sostanzialmente restituite le imposte e i contributi pagati dal mh dal lavoratore. Eh fabbricati il datore di lavoro può eh mettere a disposizione del dipendente anche i fabbricati fabbricati intensi come appunto alloggi e abitazioni di solito viene questa pratica viene effettuata quando si richiede al lavoratore di cambiare città per l'azienda di solito gli si mette appunto a disposizione eh un alloggio nei pressi dell'azienda quando gli si viene 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 chiesto di trasferirsi ehm ma non solo nel senso può anche essere richiesto qualora ci sia ci siano quelle mansioni per cui c'è ci sia bisogno dell'obbligo di dimora del lavoratore in un alloggio specifico quindi parliamo ad esempio dei guardiani piuttosto che dei portieri. Ora come definito in questo caso l'imponibile del ehm eh dei del fabbricato bisogna prendere la rendita catastale del fabbricato aggiungergli tutte le spese che sostiene il datore di lavoro per il fabbricato stesso quindi spese condominali ad esempio le spese eventualmente per le utenze togliere ehm le eh diciamo l'eventuali importi che sostiene il il laboratore a fronte di questo fringe e eh la differenza eh mi costituisce l'imponibile per il fringe benefit eh il nel caso della dell'obbligo di dimora quindi parliamo appunto i portieri guardiani il valore del fringe è ridotto al trenta per cento. Andiamo a vedere il calcolo che è è più più molto più immediato. Prendiamo sempre il nostro dipendente con una RAL di ventiseimila eh il gli viene dato un alloggio con una rendita catastale di mille duecento euro e il datore di lavoro sostiene spese diciamo condominali a titolo vario per di legata all'alloggio per milleottocento euro al datore al lavoratore vengono trattenuti eh ottantà euro al mese in busta paga come contributo per questo alloggio quindi l'operazione sarà appunto milledue più milleotto meno ottanta per dodici perché viene quello che già insomma trattenuto in busta paga e il mio fringe l'imponibile del mio fringe sarà duemila e quaranta euro quindi di fatto l'imponibile totale dell'anno sarà ventotto mila euro. Nel secondo caso abbiamo preso invece un dipendente con obbligo di dimora quindi un guardiano ad esempio in questo caso l'operazione è la stessa però cosa mi cambia? Alla fine mi cambia che i duemila e quaranta euro vengono sostanzialmente moltiplicati per il trenta per cento quindi il fringe in questo caso sarà 612 euro e ricordiamo che nel duemila ventidue in entrambi i casi ci sarà l'esenzione completa a differenza insomma delle regole ordinarie per cui in entrambi i casi ci sarebbe stata soggettazione completa. Il datore di lavoro può anche erogare dei prestiti ai dipendenti sia direttamente che indirettamente cosa vuol dire? Che il datore di lavoro può dare un prestito e farselo restituire piano piano ad un interesse che viene definito oppure può addirittura pagare gli interessi parte o tutti gli interessi di eventuali prestiti o finanziamenti o mutui che il dipendente si è fatto con terzi quindi il mutuo per comprare casa piuttosto che un prestito un finanziamento personale il datore di lavoro potrà pagare gli interessi per far sì che questo mutuo questo prestito sostanzialmente siano a tasso zero per il lavoratore quindi come si calcola in questo caso il fringe benefit? Il fringe benefit si calcola in questo modo bisogna prendere il tasso ufficiale stabilito dalla banca centrale europea e confrontarlo con il tasso che viene applicato dal datore di lavoro qualora il tasso sia lo stesso non c'è fringe benefit mentre se il tasso applicato dal datore di lavoro è inferiore ehm sostanzialmente a quello definito dalla banca centrale europea occorrerà prendere il cinquanta per cento ehm del dell'importo eh che il lavoratore avrebbe pagato come interesse se eh appunto il datore di lavoro avesse applicato ehm il l'interesse della banca centrale europea facciamo un esempio che eh anche in questo caso è più immediato allora io ho sempre il mio dipendente con ventisei mila euro di RAL e mh il datore di lavoro ha erogato un prestito da centomila euro a con un interesse all'un per cento ipotizziamo che eh il tasso della BCE sia sempre all'un per cento in questo caso i tassi coincidono e non ci sarà fringe nel secondo caso invece eh sempre la banca centrale europea ha definito il tasso dell'un per cento mentre il datore di lavoro eh glielo dà a tasso zero quindi da questi soldi e gli si fa restituire proprio solo il capitale senza farsi restituire gli interessi ipotizziamo che se il datore di lavoro avesse applicato l'un per cento nell'anno il datore di lavoro si sarebbe fatto restituire mille euro di interessi in questo caso se noi prendiamo il cinquanta per cento appunto sono cinquecento euro di fringe che dovremmo considerare nell'imposizione vi chiedo scusa qua ho notato ora che ho messo zero virgola cinque eh invece è del cinquanta per cento appunto ehm quindi in questo caso come negli altri casi ricordiamo che se viene considerato per il duemilaventidue dato che il nostro fringe il limite è di tremila anche nel secondo caso sarebbe completamente esente eh stock option eh le stock option allora ehm non sono molto eh utilizzate sono utilizzate soprattutto per le aziende anglosassoni comunque ha senso secondo me menzionarlo eh a determinate condizioni molto specifiche eh se il datore di lavoro ehm eh regala eh delle conferisce delle delle azioni delle stock option ai dipendenti eh qualora ehm vengano mantenute per un periodo di tempo predefinite qualora vengano date comunque alla generalità dei dipendenti quindi si vuole praticamente in questo caso favorire l'azionariato diffuso ehm è prevista un'esclusione del reddito per duemila e sessantacinque euro quindi è importante che ehm debbano essere comunque date a un prezzo inferiore al al normale prezzo di acquisto e e devono essere date al devono essere mantenute dal dal lavoratore per almeno tre anni e eh appunto ehm devono essere date la generalità dei dipendenti in questo caso se se si rispettano queste regole c'è è prevista questa esenzione in ultimo eh parliamo della mensa aziendale che in realtà è uno dei fringe più insomma più comuni allora eh la mensa aziendale e prestazioni sostitutive non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se ehm quindi somministrate direttamente dal datore di lavoro quindi se il datore di lavoro le somministra direttamente prendiamo ad esempio il caso di un ristorante che prima di far attaccare i dipendenti a lavorare gli offre loro il passo a titolo gratuito oppure se organizzate ehm sia all'interno che all'esterno dei locali aziendali però organizzate dal datore di lavoro e gestita anche da terzi quindi classicamente la mensa aziendale gestita da appunto da un appaltatore esterno eh che gestisce la mensa in quel caso sono esenti. In alternativa il datore di lavoro può ehm erogare i buoni passo quindi quelli più comuni eh del valore di l'esenzione giornaliera è pari a quattro euro se sono buoni cartacei e otto euro se sono buoni elettronici. Infine ma solo in casi veramente molto particolari è prevista un'esenzione di cinque e ventinove euro eh giornalieri però parliamo proprio solo ad esempio dei gli addetti ai cantieri edili piuttosto che eh unità produttive situate in zone dove non ci sono strutture o servizi di ristorazione. In questo caso ehm la questione della mensa aziendale eh è un discorso a parte rispetto ai duecentocinquantotto euro quindi io posso potenzialmente dare ai miei dipendenti sia etichetta restaurant durante tutto l'anno che i duecentocinquantotto euro non insomma posso accumularli tranquillamente. Novità del duemilaventidue quindi come abbiamo accennato già anticipato allora i le due grandi novità per il duemilaventidue sono innanzitutto l'innanzamento della soglia da duecentocinquantotto a tremila euro e poi ehm la possibilità di pagare o rimborsare le utenze domestiche dove per utenze domestiche sono luci, gas e acqua. Facendo una breve diciamo cronistoria di quello che è successo durante quest'anno. Allora ad agosto è stato aumentato il fringe da dal governo Draghi da duecentocinquantotto a seicento euro. Il quattro novembre è uscito un chiarimento dell'agenzia delle entrate dove è stato definito che se si escedeva anche solo di un euro rispetto a quei seicento tutto andava a tassazione completa. A quel punto il governo ha aggiustato il tiro, il governo Meloni ha aggiustato il tiro dicendo che il dieci novembre portando l'esenzione da seicento a tremila euro. Quindi l'altra novità è legata al fatto di pagare o rimborsare in busta paga anche le utenze domestiche, quindi oltre ai fringe benefit classici che abbiamo visto prima ehm si possono pagare o rimborsare le utenze domestiche. Cosa dovrà presentare il lavoratore, il datore di lavoro? Allora o la bolletta eh quindi la prova che la bolletta sia stata pagata, quindi la bolletta con la ricevuta di pagamento oppure la una dichiarazione che attesti il possesso della documentazione che comprova eh il pagamento dell'utenza domestica, quindi o la bolletta o una dichiarazione del lavoratore. Contemporaneamente dovrà essere presentata una dichiarazione, un'altra seconda dichiarazione del lavoratore che autocertifica che questo rimborso non è stato richiesto ad altro datore di lavoro che non è stato già questo rimborso eh richiesto dal dal coniuge o o da un familiare. Quindi le regole di erogazione in realtà non è che sono cambiate, quindi il costo del fringe è comunque completamente a carico del datore di lavoro a differenza dei duecento euro di luglio e dei centocinquanta di novembre. Quindi è completamente a carico del datore di lavoro. I fringe benefit sono erogati dal datore di lavoro e possono essere erogati liberamente anche ad personam. Eh quindi e non è necessario arrivare a tremila euro al datore di lavoro se sta nella soglia dei tremila può decidere anche di dare mille, duemila, eh due e cinque. L'importante cioè può anche superare i tremila però se li supera viene tutto soggetto a tassazione. Eh rimane invariato questa è una cosa che è importante dire il limite appunto temporale entro cui erogarli ehm che è il dodici gennaio duemilaventitré. Eh e in ultimo appunto ricordiamo che il limite dei tremila euro è cumulabile più buoni benzina di duecento euro. Quindi io potrei dare tremila euro di fringe più duecento euro di buoni benzina. Eh quali sono le criticità che mh si possono vedere da addetta ai lavori a eh relativamente a insomma tutto quello che è stato fatto. Allora innanzitutto il budget HR duemilaventidue le aziende l'hanno fatto da mo' nel senso che l'hanno fatto un anno fa circa, no? È difficile che adesso mettano altri soldi sul piatto per i lavoratori a meno che non sia stato un anno spaziale. È difficile. Quindi mh è difficile che venga usato ehm qualora non fosse stato messo a budget. I premi di risultato duemilaventidue quindi quelli detassati parliamo di quelli detassati. Nella maggior parte dei casi sono stati erogati a inizio anno e ricordiamo che la legge prevede che eh la decisione di prendere il diciamo un premio mh in busta detassato piuttosto che in welfare deve essere fatta al momento dell'erogazione. Quindi dato che l'erogazione è già stata fatta in teoria non si potrebbe chiedere al al lavoratore di restituire il premio per poi ridarglielo in welfare eventualmente. Non non si potrebbe fare. Il mio avviso è molto contestabile in sede di ispezione dell'agenzia delle entrate. Ed in ultimo qualora il premio non fosse ancora stato erogato però lo trovo veramente una condizione difficile personalmente dai casi che vedo in studio perché appunto sono premi relativi in questo caso parliamo di premi relativi al duemilaventuno i premi del duemilaventidue verranno erogati a inizio duemilaventitré quindi ehm in quel caso dovrà esserci cioè sarà possibile se non è ancora erogato però dovrà essere ovviamente stato scritto sul regolamento sull'accordo e dovrà essere volontà comunque del lavoratore. Quindi eh di fatto nella maggior parte dei casi chi è che beneficerà di questo esonero aggiuntivo ne beneficeranno coloro che hanno avuto dei preinfringi benefit durante l'anno di importo eh cospicuo ma comunque inferiore ai tremila euro quindi ad esempio amministratori piuttosto che dipendenti che hanno l'auto aziendale del cui valore sotto i tremila euro a quel punto a dicembre verranno eh vedranno farsi il conguaglio vedranno restituirsi tutte sostanzialmente le imposte pagate durante l'anno eh questo è quello che a mio avviso verosimilmente succederà più spesso eh quindi facendo eh i tre esempi sempre sempre il nostro dipendente che ha ventiseimila di RAL nel caso in cui nell'anno non abbia ricevuto neanche un fringe benefit gli si potranno erogare fino a tremila euro di fringe benefit in appunto buoni vari affi entro il 12 di gennaio nel caso avesse già ricevuto 258 euro perché tanti eh contratti lo prevedono già obbligatoriamente potrò dargli fino a un massimo di 2742 euro e infine se qualcuno aveva già l'auto aziendale ad esempio in questo caso ho ventiseimila euro di RAL e duemila euro di auto aziendale potrò dare fino a mille euro di fringe benefit che saranno esenti al cento per cento eh passando invece alle novità di novembre allora l'esonero per i lavoratrici madri ne abbiamo già accennato lo scorso webinar quindi ehm ricordiamo che è diventato operativo eh l'esonero contributivo del cinquanta per cento in favore delle madri che sono rientrate dal congiunto di maternità è sperimentale per l'anno duemila ventidue dura dodici mesi eh cosa fondamentale che la lavoratrice rientri sul posto di lavoro entro il trentun dodici duemila ventidue ehm è un esonero a favore solo della lavoratrice quindi il datore di lavoro non vedrà eh sostanzialmente una riduzione dei costi ma la dipendente vederà un netto in busta paga più alto cosa deve fare la lavoratrice per richiederlo deve sostanzialmente fare una richiesta consegnarla al datore di lavoro che richiederà all'IMS eh per conto della dipendente un codice sgravo specifico proprio per lei quindi legato al suo codice fiscale ehm allora è uscito un chiarimento dell'IMS il nove di novembre eh cosa è stato detto in buona sostanza è stato detto che al congedo obbligatorio io se attacco congedo parentale ferie insomma malattie eventualmente eh mi fanno slittare l'inizio dell'esonero quindi per avere diritto all'esonero io devo rientrare al lavoro proprio devo lavorare entro il trentun dodici duemila ventidue anche solo qualche giorno quindi sono stati fatti quattro esempi nel primo caso c'è il congedo eh obbligatorio che finisce quasi a fine luglio si attacca il congedo parentale si attaccano delle ferie a settembre del quindici settembre la lavoratrice rientra al lavoro quindi il suo esonero sarà dal quindici settembre al quattordici settembre duemila ventitra nel secondo caso la lavoratrice subito dopo il congedo rientra al lavoro un periodo per poi prendersi congedo parentale e ferie in questo caso l'esonero sarà di dodici mesi a partire dal diciannove luglio cioè la data del rientro nel terzo caso la lavoratrice fa prima congedo poi congedo parentale rientra al lavoro poi fa ferie poi malattia in questo caso appunto il congedo parte dal quindici settembre cioè dal giorno in cui rientra al lavoro e in ultimo eh c'è il congedo obbligatorio poi congedo parentale poi le ferie poi rientro poi la malattia parte sempre dal giorno del primo giorno di rientro fisicamente al lavoro fisicamente in smart working non importa però deve la lavoratrice deve lavorare attivamente ehm allora io eh dato che siamo insomma abbiamo superato già i 40 minuti eh non sto eh allora qua semplicemente sono mh abbiamo fatto graficamente quelli che sono gli esempi che sono stati portati nel messaggio Inps qua eh insomma ve li lascio leggere a voi ma non trovate trovate semplicemente quello che abbiamo rappresentato graficamente per quanto riguarda i centocinquanta euro della busta paga di novembre invece ehm ricordiamo che la soglia rispetto ai duecento euro di luglio è stata diminuita a quelli che sono eventualmente sarebbe un aral di ventimila euro annui quindi parliamo della retribuzione di cioè spetteranno ai lavoratori che nella retribuzione di novembre hanno un imponibile previdenziale di mille cinquecentotrentotto euro massimo eh sarà riconosciuta in automatico a fatto che il lavoratore abbia sottoscritto una dichiarazione ehm messa a disposizione dall'Inps ehm è stato chiarito dall'Inps che qualora il lavoratore abbia eh sulla busta anche un ratio di tredicesima perché alcuni lavoratori hanno i rate in in bussa in quel caso devo scorporare il ratio di tredicesima e considerare proprio solo la mensilità ordinaria ai fini del della valutazione del superamento meno dei mille cinquecentotrentotto euro e qualora ehm non sia stato possibile per motivi organizzativi regare i centocinquanta euro nella busta di novembre potrò regarla comunque nella busta di dicembre quindi queste sono le precisazioni che sono state fatte. Ultimissima novità ehm l'Inps ha comunicato che relativamente ai nuovi congedi parentali che sono stati affrontati nell'altro webinar ehm è possibile sostanzialmente effettuare eh le domande per i nuovi congedi parentali che sono stati spiegati nell'altro webinar anche retroattivamente. Allora io eh avrei finito ehm adesso se eh guardo le domande e comincio a rispondere provo a rispondere alle domande. Allora ehm dunque qua mi viene chiesto eh a me continua a essere poco chiaro se i duecentocinquantotto euro sono a parte rispetto alle quote di welfare erogati tramite le classiche piattaforme. Allora. Allora i duecento allora di solito la piattaforma crea il pacchetto welfare in modo che ehm i duecentocinquantotto euro di buoni spesa, buoni carburante, ricariche telefoniche siano un limite massimo di duecentocinquantotto acquistato in quel modo. Tutto il resto che cede deve essere acquistato per forza in altri servizi quindi ad esempio ehm servizi ricreativi ad esempio la palestra piuttosto che viaggi quindi i duecentocinquantotto euro fanno parte di solito del paniere di welfare e sono un limite massimo che viene definito annualmente per cui buoni spesa, buoni benzina, servizi vari che non rientrano in quelli che dicevamo prima quindi eh servizi di educazione, ricreazione, assistenza sociale eh è un limite annuale ehm spero di essere stata chiara. Quest'anno però sono fino a tremila euro ricordiamo. Allora fringe benefit il rimborso delle bollette. Il lavoratore può chiedere anche il rimborso di bollette non intestate a lui. La la bolletta può essere intestata a una società. Questo non lo so se la bolletta può essere intestata a una società sinceramente a me ehm sembra adesso poi magari quando vi mandiamo le slide questa cosa la possiamo verificare però a me sembra che eh debba essere intestata comunque al lavoratore o a un convivente non mi sembra che possa essere intestata a una società però mi riservo di verificarlo perché non insomma non mi era ancora stata fatta questa domanda non avevo verificato. Allora fringe benefit rimborso bollette vale anche per i costi di condominio ma allora anche in questo caso eh secondo me se è specificato cioè allora quello che è stato specificato è che ehm se ad esempio le utenze sono centralizzate nel condominio sì però eh ovviamente non è che si possono rimborsare le sfese di pulizia del condominio però se ad esempio il il riscaldamento è centralizzato in quel caso eh in quel caso sì ehm allora qua mi viene chiesto allora premesse insomma specifico questo webinar è per responsabili HR quindi se mi vengono fatte delle domande troppo basilari io non posso purtroppo rispondere a tutti mi viene chiesto cosa vuol dire imponibile e vado molto molto ehm molto molto sinteticamente l'imponibile è il totale della retribuzione che viene soggettata a tassazione o a contribuzione non posso andare più nello specifico perché appunto questo eh sono dei webinar dedicati ai responsabili risorse umane che queste cose già le sanno ehm per i fringe benefit posso inserire anche le bollette del telefono fisso che io sappiano no solo le utenze legate proprio acqua gas luce ehm elettricità e insomma queste utenze qui le bollette del telefono non mi sembra e internet neanche però ripeto ehm no no non mi sembra proprio ehm allora il cellulare aziendale può essere considerato un fringe benefit allora il cellulare aziendale allora di solito eh il cellulare viene lasciato a coloro i quali ehm per lavoro devono usare il cellulare e non sarebbe possibile in teoria a usarlo ad uso promiscuo in teoria quindi quindi la risposta sarebbe no dovrebbero in teoria ci dovrebbe essere una sim solo per eh telefonate lavorative e una sim solo per telefonate private ehm ok allora si ha diritto al bonus 150 euro anche se si hanno due rapporti di lavoro allora così come era per i 200 euro si può chiedere a un solo datore di lavoro il bonus ok poi qua mi viene chiesto non mi chiedo se i 3000 euro vengono erogati oltre i premi di risultato eh oppure no ehm allora i 3000 euro allora se vengono erogati completamente in welfare possono i on top rispetto a quello che è il premio di risultato possono essere erogati anche oltre il premio di risultato cioè se io ho preso un premio di risultato di 3000 euro detassato e in più il mio datore di lavoro decidi di darmi solo a me 3000 euro in voucher in quel caso si può fare cosa non si può fare è convertire quei 3000 euro che ho già preso in modo detassato convertirli in ehm in welfare quello non si può fare ehm per quanto riguarda invece mi mi viene chiesto per il rimborso per il riscaldamento condominiale se pagato dal condominio eh sì ovviamente ci va un attestato dell'amministratore che mh che indichi la le quote no chiaramente relativa al riscaldamento però sì allora poi qua mi viene chiesto quindi se erogo un fringio con un buono elettronico il dipendente oltre a dove lo riceve entro il 12 deve averlo convertito in piattaforma entro in piattaforma entro il 12 uno per entrare nell'annualità sì in teoria sì bisogna infatti eh che io sappia le piattaforme stanno dando questa indicazione stanno dicendo di farlo associare direttamente al lavoratore entro il 12 in modo che quelle somme non possano potenzialmente essere riprese dall'agenzia delle entrate perché il rischio è quello ovviamente è eh una eh è uno scrupolo in più secondo me se eh perché allora la questione è questa è che se io gli do al mio dipendente il il voucher però poi lui non lo converte di fatto non entra nella sua sfera di eh cioè è come se lo stipendio non fosse stato pagato sul lì sul sul eh sul conto corrente mentre se lo converte anche il che viene associato a suo nome a quel punto eh possiamo stare tranquilli che è considerato al cento per cento come erogato e quindi eh siamo tranquilli di essere nelle nel limite dell'esenzione. allora la bolletta può essere intestata a un convivente eh che io sappia sì non ho letto niente in contrario appunto ehm può essere intestata anche al convivente e sferma ovviamente la dichiara tutte le dichiarazioni che abbiamo detto prima eh ehm ok poi mi viene chiesto ancora ehm allora se il bene allora cerco di prendere eh cerco di di prendere il il solo le domande nuove mi chiedono se le il benefit può essere preso anche da un amministratore visto che la busta paga assolutamente sì assolutamente sì infatti dato che molti amministratori hanno il primo benefit auto vedranno anche loro per restituirsi le imposte eh eh che ha gli amministratori che hanno il primo benefit auto vedranno restituirsi le imposte che hanno pagato se ovviamente il primo è sotto i tremila ovviamente vi mando il materiale e ovviamente ehm ci saranno anche i video ehm disponibili sul sito tra qualche giorno eh vi anticipo che eh manderemo una mail con eh un questionario ehm ehm sul webinar vi chiedo per cortesia di compilarlo in modo da aiutarci a migliorare appunto i i webinar che vengono fatti che vengono fatti ehm mi sembra ok poi c'era ancora qualche altra domanda vediamo se ho risposto abbastanza tutto allora allora vediamo un pochino se sono domanda qui già risposto allora fringe benefit per stagisti sì perché di fatto anche gli stagisti avendo un reddito da lavoro assimilato al lavoro dipendente potrebbero avere due cento cinquantotto euro e quindi anche fringe le bollette possono essere intestate anche al coniuge abbiamo risposto l'acquisto di un abbonamento extra extra urbano per una GTT per un indipendente rientra come fringe benefit entro i 3.000 euro allora ehm sto andando a memoria ehm allora io direi di sì secondo me sì perché eh di solito può essere inserito nei piani di welfare ehm sì ehm la modulistica per le bollette la modulistica per il rimborso delle bollette la mettete a disposizione voi no noi non mettiamo a disposizione nulla ehm cioè perché di fatto è il datore di lavoro che deve raccogliere le bollette eventuali dichiarazioni noi non lo mettiamo a disposizione anche perché ci sono alcune piattaforme che si stanno attivando per effettuare questo rimborso non è una cosa che facciamo noi ehm ok ehm le bollette devono essere per il 2022 ah qua mi viene chiesto eh i vantaggi per il dipendente sono chiari ma per il datore di lavoro rispetto a lasciarle in bilancio allora qua allora la questione è questa è che il allora i vantaggi per il dipendente ovviamente sono chiari per il datore di lavoro i vantaggi sono legati al fatto che non paga i contributi su quelle somme e poi qua mi mi viene chiesto è più conveniente destinarli eh ad esempio come utili in questo caso io vi consiglio ovviamente questo ripeto è un è un webinar destinato ai datori di lavoro che gestiscono dei dipendenti ehm se i dipendenti sono anche soci eventualmente io vi consiglio di confrontarmi ovviamente col vostro commercialista ehm allora per i conviventi abbiamo detto mi mi chiedono anche se i centocinquanta euro bisogna erogarli ai dipendenti assunti o cessate nel mese di novembre anche in questo caso viene posto un limite previdenziale quindi se un lavoratore viene assunto cessa nel mese di novembre se mi compila la dichiarazione che non riceve centocinquanta euro da altro datore datore di lavoro posso erogarli ok poi mi viene fatta una domanda eh se rientro lavorativo avviene nel duemilaventitré allora esonero delle lavoratrici madri se rientro lavorativo avviene nel corso del duemilaventitré la domanda potrà essere effettuata dopo rientro no se rientro avviene nel duemilaventitré l'esonero non c'è quindi conviene far rientrare la lavoratrice e fargli poi mettere le ferie piuttosto ehm i buoni pasto che l'azienda tutti i mesi eroga i lavoratori rientrano nel fringe no l'abbiamo detto prima ehm quindi mi viene chiesto i benefit a fronte di bollette possono essere erogati direttamente in denaro sì cioè è un rimborso di delle bollette quindi in quel caso posso metterli in busta paga allora qua mi viene chiesto ciò che raccolgo dai dipendenti a cui lo invio lo si tiene in azienda nel senso che io raccolgo le bollette del dipendente che mi giustificano il rimborso e poi devo tenerla in azienda perché nel caso di controlli io ho erogato dei soldi sostanzialmente senza pagare le imposte ai contributi e quindi le ho lì come giustificativo esattamente come ho dei giustificativi ad esempio per i rimborsi spese per il ristorante allo stesso modo le devo tenere lì e farle vedere in caso di controllo qua mi chiede come faccio a sapere se un lavoratore da un altro datore di lavoro aveva dei fringe e se il valore ok in questo caso cioè se il datore di lavoratore viene da altro rapporto di lavoro in quel caso io dovrei farmi compilare una dichiarazione che non ha percepito altri fringe importante dire che se io ad esempio chiedo al nuovo lavoratore che ho assunto nell'anno hai percepito altri fringe lui mi dice di no a quel punto io gli do ipotizziamo 2000 euro di fringe lui dall'altra parte ne aveva presi già altri 2000 che supera poi sarà l'agenzia dell'entrata andare a richiedere a lui le imposte su quei fringe quindi se lui poi mi dichiara il falso andranno innanzitutto da lui poi verranno l'inps ovviamente mi chiederà i contributi anche a me però di solito si fa con una dichiarazione così anche per i 200 euro di buoni carburante devono è meglio farsi compilare una dichiarazione del lavoratore che non ha ricevuto questi 200 euro dall'altro datore di lavoro perché anche in quel caso sono sostanzialmente possono essere rorogati una volta durante l'anno quindi se il lavoratore li ha già presi da un altro datore di lavoro non li può prendere anche da me ok le domande erano veramente tante quindi spero che l'argomento vi sia interessato molto e poi ovviamente ci sono ancora qualche altra domandina però non andrei oltre piuttosto con appunto i clienti dello studio se avete ancora delle questioni aperte ci possiamo sentire direttamente vi ringrazio molto vi saluto e vi auguro una buona continuazione di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti